buongiorno a tutti sono luca ballotta per chi arriva dal webinar precedente ok spero che non sia stato troppo noioso vi occuperò un'altra mezzurietta per parlare di quelli che sono i tool danfoss per poter effettuare un sacco di operazioni ok in maniera autonoma e completamente gratuita io faccio parte del supporto tecnico danfoss quindi in caso di chiarimenti se siete installatori potete passare direttamente dei vostri distributori ok passare mi la domanda io ovviamente sono a disposizione per risolvere le vostre problematiche aiutarvi nei vostri dubbi e io e m ovviamente hanno chi ha il contatto diretto può dire talmente scrivermi parliamo oggi di tool danfoss quindi di applicazione che vengono date gratuitamente a tutti per poter effettuare un sacco di operazioni che poi andremo a vedere perché abbiamo deciso questa settimana di organizzare questa serie di webinar questo è l'unico in italiano con quello precedente ma ce ne sono altri in inglese ok che possono essere relativi che sono relativi a diversi tipi di soluzioni quindi si va dalla co2 dal food retail ai fluidi infiammabili e questo è solito della danfoss quindi se avete interesse potete scrivervi agli altri che sono in lingua inglese stata scelta questa settimana perché c'è la climate week in new york city ok per quanto riguarda con alcune regole molto molto veloci fondamentalmente questo questo webinar è un monologo ok voi siete liberi di porre tutte le domande alle quali vi verranno risposte in maniera scritta perché solitamente le domande sono piuttosto precise hanno bisogno di una risposta chiara che non può essere esaustiva nei pochi minuti finali e riservati alle domande quindi siete liberi di scrivere scrivetele pure sarà mia cura rispondervi il prima possibile partiamo subito con mostrarvi quali sono i principali tool che danno forse mette a disposizione ok li leggiamo soltanto la via di retrofit q selector lo gvp tool txv super itune e refrigerant rider bene non ce n'è uno scritto in italiano ma questo ormai purtroppo il mondo è così e non verranno mai tradotti comunque sono le alcune sono app che si possono scaricare sia per gli os che per android il primo è un pdf un documento che mostra una guida e retrofit e il secondo il famoso q selector bene la guida e retrofit perché da un po sa voluto scrivere una guida quindi una piccola dispensa relativa ai retrofit perché l'operazione di retrofit che può essere vista come un'operazione banale rasconde invece molte insidie ok quindi in questa guida che è incentrata soprattutto su quattro capitoli abbiamo voluto esporre quali sono i controlli da eseguire prima di un retrofit ok perché il retrofit non è tolgo un gas ne metto un altro questo non è retrofit questo è fare un salto dall'aereo senza paracadute ok potremmo finire tratterare sul morbido o no ok quindi cosa dobbiamo controllare prima verificare la compatibilità dei materiali e procedure di retrofit ok qualcosa quali sono le azioni che devo compiere quando vado a fare un retrofit e gestire i parametri di funzionamento considerando guide ok non in questa sede non andremo ad approfondire ogni singolo argomento ok ma il mio intento sarà quello di stuzzicare la vostra curiosità per far sì che andiate aveva a leggere e lo portate sempre con voi nella vostra biblioteca perché questo documento che ventina di pagine niente di niente di speciale ok è qualcosa di veramente utile da tenere sempre sott'occhio per evitare brutte sorprese soprattutto le prime volte ok cosa dobbiamo controllare prima di fare un retrofit bene molto semplice dobbiamo vedere se i componenti sono ok con il nuovo fluido se le pressioni di lavoro sono ok se ci sono dei componenti che non sono rilasciati non sono compatibili dico un esempio molto stupido che non è il nostro caso se è un impianto a freon ci metto dentro la co2 lavoro la pressione più alta e mi scoppia tutto ok quindi questo è un controllo da fare ho detto una cosa che ovviamente molto banale che tutti sanno però devo capire se i prodotti che ho possono andare bene dal punto di vista proprio di pressione temperature proprio i controlli basilari bene andiamo a vedere la seconda fase molto 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 importante che quella della compatibilità chimica dei componenti perché perché se il componente che non è un solo pezzo di metallo ma è composto da molte altre parti è compatibile o non è compatibile fa la differenza io posso avere una valvola che funziona bene ma mi perde perché le guarnizioni non sono compatibili con il fluido perché perché sia un componente che è stato sviluppato per un fluido io vado a cambiare non è detto che questo nuovo fluido sia ok chiaro quindi attenzione dobbiamo assolutamente verificare questa cosa quindi abbiamo dei livelli di difficoltà i livelli di rischio nel retrofit che sono molto 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 diversi quindi io posso avere dei fluidi che hanno le stesse proprietà termodinamiche chimiche quindi tipo 134 a 513 metto lì il rischio è molto basso perché sappiamo che sono abbastanza simili ok oppure o dei fluidi nel caso 2 di tipo 2 che hanno compatibilità chimica sì bene quindi mi non mi aspetto che le guarnizioni abbiano problemi anche materiali ma le pressioni di lavoro non sono proprio le stesse quindi potrei andare a lavorare a pressioni diverse bene lavorare a pressioni diverse può dare dei problemi al bulbo della termostatica oppure può dare problemi al compressore che non è stato studiato per fare quel tipo di attività bene e se poi andiamo a complicarci le cose andiamo a mettere dei fluidi che hanno proprietà termodinamiche diverse e non siamo sicuri che siano comicamente compatibili andiamo a creare un bel problema quindi cerchiamo di evitarlo quindi verifichiamo sempre che il fluido che andiamo inserire abbia proprietà termodinamiche simili non devono essere uguali ma devono essere simili e con proprietà chimica appurata qual è la procedura di retrofit dopo che abbiamo capito scusate dopo che abbiamo capito che i fluidi sono compatibili controllare i parametri di lavoro ok fare una fotografia dello stato ottale con il vecchio fluido resa temperature sullo scaldamento sotto raffreddamento tutto quello che possiamo acquisire è fondamentale perché è importantissimo definire se siamo un installatore con il cliente come sta andando l'impianto non possiamo solo dire come andrà dopo ma dobbiamo dire tu parti da una da una condizione a io te lo porto in una condizione b a fine impianto bene cosa faccio recupero il refrigerante devo drenare l'olio si consiglia sempre di cambiarlo perché è difficile se non quasi impossibile riuscire a rimuovere tutto il refrigerante che è intrappolato dentro l'olio carico il nuovo olio ovviamente eseguo le operazioni di vuoto e rimozione dell'umidità perché aperto l'impianto quindi assolutamente devo evitare che si fuori in umidità carico il refrigerante accendo interduttore e vado a rileggere i parametri ok tutti i parametri che avevo prima del retrofit devo riuscire a ricavarli nuovamente ok per riuscire a fare un confronto nella condizione a e b perché alcuni retrofit a un calo di resa in altri retrofit o una modifica delle pressioni di lavoro un altro caso molto interessante quello delle variazioni dei parametri di funzionamento soprattutto quando c'è il guide quando io vado a analizzare un retrofit con un utilizzo un refrigerante che ha via id cosa succede devo andare a valutare quale sarà la nuova temperatura di evaporazione possiamo a quello è anche di condensazione perché sia un refrigerante che non ha guide durante l'evaporazione la temperatura sarà costante sia un refrigerante con il guide la temperatura iniziale finale di evaporazione sarà diversa sempre non considerando le perte di carico quindi tutto questo è molto molto importante conoscerlo per capire qual è la giusta temperatura da impostare in condensazione e in evaporazione in alcuni casi posso avere aspetti positivi e in alcuni casi aspetti negativi ok comunque devo ricordarmi che l'evaporazione non avviene a temperatura costante nemmeno la condensazione sempre scordandoci del super it ok bene in questa guida vengono ovviamente indicate tutte queste cose che abbiamo un attimo approfondito insieme oggi vi invito assolutamente a caricarla se avete dei dubbi scrivete pure siamo a disposizione per chiarire i vostri dubbi passiamo ora a cool selector 2 cool selector 2 è un software veramente potente che danfoss ha rilasciato per tutti gratuitamente che permette di fare tantissime attività infatti non dobbiamo pensare che cool selector sia un programma per selezionare una valvola cool selector è un programma che permette di gestire i componenti sia singoli che in serie è stato implementato da pochi mesi anche una funzione di selezione del codice ok la funzione di selezione del codice è ancora work in progress il consiglio sempre di verificare con supporto danfoss o rivenditore o data sheet ok perché è molto difficile riuscire ad allinearsi con i codici lo stampo se lo sta facendo ma ancora non posso garantirvi che ci siano tutti siano tutti aggiornati però intanto è possibile già avere un'indicazione del codice seleziona valvola te del codice ok e anche per il discorso il parte di ricambio dei compressori bene cosa è possibile selezionare abbiamo detto su valvole componenti ma in che sistemi i sistemi sono veramente tanti perché come in realtà non abbiamo gli impianti che sono fatti tutti allo stesso modo quindi abbiamo il classico dry x espansione secca abbiamo l'allegato a pompa gravità abbiamo il co2 trascritti consum critico abbiamo le applicazioni industriali come le soluzioni per lo sbrinamento dove fornendo i parametri che noi vogliamo di sbrinamento e avremo la selezione di tutto il pacchetto valvole valvoline non ritorno valvola di sovra pressione è una funzione veramente potente ok che selezioni componenti in maniera molto veloce abbiamo un altro un'altra funzione che è molto molto interessante che quella dello stima del carico di una cella non dobbiamo prenderla ovviamente come dato di design non possiamo fare un progetto con i dati che abbiamo calcolato con quei risultati che abbiamo calcolato con curso vector ma ci dà veramente una stima molto precisa del carico di una cella è chiaro che questo il risultato che ci fornisce curso vector in questo caso è legato alla quantità di informazioni che noi diamo ok quindi devono essere definiti chiaramente carichi scarichi il prodotto respira ci sono tante variabili da inserire ma più abbiamo i dati precisi più risultato sarà preciso e è stato lasciato un molto com perché proprio la settimana scorsa venerdì oggi non lo vedremo perché sarà seguito probabilmente di webinar o di training nelle prossime settimane nei prossimi mesi una funzione di retrofit è possibile inserire i parametri di funzionamento con un fluido a malato gvp e andare a fare una simulazione di quello che sarà il risultato con un filo a basso gvp il programma è molto potente e permette di selezionare i principali componenti ci dice se la valvola di espansione faccio un esempio a avrà una resa maggiore e minore qual è il grado di su riscaldamento che avrò case da cambiare il compressore cambiando fluido a un copp diverso sino a una resa diversa entrambi funzionerà correttamente le linee vanno bene i diametri sono piccoli sono grandi da una serie di informazioni veramente veramente interessanti ed è una funzione veramente potente che mi invito a a provare e vi ricordo che q selector aggiornamenti mensili ogni mese c'è un aggiornamento ok che può essere anche piuttosto piccolo anche solo corretto un bug ma è un problema in continua evoluzione è già veramente un programma potente che vi permette di fare tantissime cose e ogni mese viene sempre più migliorato ok vediamo una interfaccia molto banale ok della selezione è multipagina e multischeda e sulla parte sinistra andiamo a selezionare che cosa la famiglia la tipologia ok se voglio una componente singolo componenti serie una componente commerciale come può essere una condensi di unit un componente industriale una cellula abbiamo tante 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 possibilità da pochi mesi sono stati inseriti per esempio anche in asia di switch ok è possibile selezionare i presostoti senza più andasse spucciare i datashit cercando tutti i codici ok nella parte che invece è evidenziata in questo slide c'è sono le tab con i componenti calcolati io posso nello stesso file nello stesso progetto selezionare svariati componenti che i valori solenoide per esempio valvola di espansione valvola di stop per dirne uno e poi posso mettere tutti insieme creare una linea altra funzione molto importante interfaccia è praticamente sempre la stessa che io stia selezionando una valvola di espansione una valvola solenoide cosa devo dire devo dire qual è tipo di sistema quindi vedrò qual è lo schema che viene applicato ok e la cosa è molto semplice abbiamo detto che c'è espansione secca trascritico allagato sono varie tipologie e vedrete anche lo schema quindi sarà molto semplice da capire da gestire vado a scegliere il refrigerante inserisco le condizioni operative e condizioni di selezione quindi del tappi che voglio per esempio il grado di apertura o in alcuni casi il grado di perte di gradi in kelvin non di pressione poi dopo scelgo la famiglia ok quindi nelle valvole di espansione vado a scegliere la gamma che voglio in questo caso selezionato le ps con libri e sotto mi viene fuori tutto vengono fare tutti i risultati viene analizzata tutta la famiglia la cosa positiva è proprio quella fa vedere anche le valvole che non sono ok perché fa vedere anche le valvole che non sono ok perché spi così c'è possibilità di capire per quale motivo non lo sono quindi quelle rosse ovviamente non lo sono andiamo a vedere se teniamo il puntatore del mouse fermo nella colonna resalt quando c'è un warning un cartaglio di divieto ci spiegherà perché non è ok ovviamente in caso di dubbi il supporto tecnico danfoss è a disposizione ci sono altre funzioni molto importanti che non posso mostrarvi oggi di cuselector ma una tra queste che voglio oggi farvi vedere è quella della tabella di panoramica dei refrigeranti e componenti perché perché con la velocità con cui vengono introdotti nuovi refrigeranti ok è difficile riuscire ad avere data sheet completamente aggiornati per evitare dubbi e domande relative alla compatibilità di un componente con un fluido refrigerante in particolare c'è una tabella all'interno di cuselector dove viene mostrata la panoramica dei principali componenti ok dove vediamo incrociare il componente con il fluido abbiamo tre possibilità il quadratino verde è stato rilasciato ed ok il giallo è il componente sostanzialmente funziona non è ancora stato rilasciato meglio chiedere il grigio componente non è stato rilasciato non non è previsto ancora adesso non è detto che lo possa essere perché ci possono essere dei componenti che sono stati progettati in un modo che con il nuovo fluido non sono ok bene parliamo dell'oggi vp tool oggi vp tool è un app che vi consiglio di scaricare c'è anche ovviamente disponibile online e cosa serve serve per fornire un'indicazione molto veloce e immediata relativo alla modifica in termini superi e la possibilità di funzionamento della valvola termostatica meccanica installata passando da un vecchio refrigerante ad alto gvp ad uno nuovo andiamo a vedere quali sono le informazioni che devo dare sono veramente veramente banali ed è la cosa è immediata allora si sceglie la tipologia di valvolo il refrigerante di partenza il refrigerante a basso gvp bene qual è il risultato ottengo partiamo dal basso non dal centro ok ho tre faccine le faccine cosa mi dicono che è verde verde gialla e rossa se rossa non funziona se gialla va usata con cautela se è verde è idonea che cosa idonea ad operare temperature temperature indicate quindi a una colonna per temperature positive da 0 a meno 20 a meno 20 ok e capaci c capacity change scusate è quanto varia la capacità in funzione della modifica del fluido ok la faccina che vediamo è relativa al al dato di sopra al campo di funzionamento ok quindi io posso avere una valvola che ha un cambio di capacità scusate perché scusate ha un cambio di capacità minimo che però non funziona correttamente perché il bulbo lavora male ok e nella parte più alta invece c'è scritto viene indicato quanti giri o quarti di giri o mezzi giri va aggiustato il suo riscaldamento per far funzionare la valvola correttamente questa è un'indicazione di base attenzione non è un'indicazione che sarà sicuramente corretta nel vostro impianto partite da qui e lo andate a correggere txv superituner il superituner è una funzione avanzata ok che è disponibile per tante valvole danfoss tutte e anche quelle valvole non danfoss ok che permette di ottimizzare in maniera guidata il suo riscaldamento perché perché a seconda della pressione di lavoro e della temperatura di evaporazione della temperatura pensiamo che vogliamo in cella ho un grado di superit che è efficiente o meno andiamo a vedere cosa vuol dire io ho bisogno di alcune informazioni ok inizio a fare una configurazione di questa app bene io scelgo la valvola il range di temperatura il fluido e la temperatura della stanza del locale della cella quella che volete ok la temperatura desiderata del fluido di processo aria acqua quello che è bene scelgo la tipologia di valvola e vado a inserire i parametri di funzionamento quindi io vado ad inserire o pressione o temperatura non cambia niente tanto il sistema fa tutte le sue modifiche e mi va ad indicare qual è la temperatura assoluta di lavoro ok io vado a misurare che cosa la pressione al compressore in aspirazione alla macchina che è quella di evaporazione indicativamente la temperatura e vado a misurare che cosa il surriscaldamento vediamo in questo caso che il surriscaldamento e sto evaporando a 3 gradi con la cella temperatura che abbiamo impostato prima e il surriscaldamento in questo caso a 13 gradi lui dice il riscaldamento che noi come Danfor si consigliamo è 9 quindi cosa vuol dire che se io vado a ridurre il surriscaldamento e mi dice anche in funzione della valvola vedete 1,7 che sulla sinistra sotto la scritta rossa mi dice il surriscaldamento con cui stai lavorando tu oggi è 3,9 kelvin troppo alto tu stai buttando via energia perché stai surriscaldando troppo il gas ok quindi ruota fai 1,7 giri anti orari riduce il surriscaldamento per avere la massima efficienza ok attenzione questo sistema è bellissimo va gestito in applicazione dove la temperatura di processo è sempre la stessa ok quindi la cella caso 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 proprio più semplice io ho una cella che la voglia a 4 gradi io tengo sul surriscaldamento giusto una volta che ho fissato la pressione di aspirazione faccio andare il sistema fisso la temperatura di aspirazione del compressore che deve essere sempre quella ok perché se varia dopo tutto cambia perché cambiano anche le temperature e vado a fissare il surriscaldamento cosa succede che l'app mi dice io tu installatore dopo che hai messo a punto sul riscaldamento hai fatto un seri in questo caso fino al 12 per cento me lo calcolo perché mi dice la resa che avevi tu prima è questa a valore a la resa attuale con super it messo a punto e b quindi la differenza in questo caso è del 12 per cento vi invito a provare a questa si chiama proprio super it tuner perché è un app che serve per fare una regolazione fine del surriscaldamento che va fatta come dicevo prima solo quando l'impianto e funzionamento uniforme è costante ok se avete la temperatura della cella che varia sempre questo sistema ovviamente non può essere applicato ultimo ma non per importanza parliamo del refrigerant slider ok lo slider che tutti ormai credo utilizzano non esistono più di slider cartacei perché la quantità di fuori di refrigeranti introdotti è talmente elevata che non si riesce neanche più a farli tutti avevano il nostro cellulare bene utilizziamo il refrigerant slider di danfoss cosa ha di di utile questo slider oltre ad essere molto semplice immediato ci dà alcune informazioni aggiuntive ok in basso e vediamo il gvp come ho detto prima nella presentazione precedente deve essere valutato non è sempre quel valore come della camera di commercio può essere leggermente diverso a seconda di come viene calcolato e abbiamo la possibilità di scegliere una miriade di refrigeranti veramente tantissimi e le prestazioni o le caratteristiche scusate del refrigerante viene visualizzata se in funzione del viewpoint del punto al legato destro della campana o del bubble point punto al lato sinistro della campana ok sia in pressione relativa assoluta noi non dobbiamo fare altro che inserirlo la temperatura la pressione e riosi ai deciderà l'altro valore bene nei dettagli abbiamo tante cose interessanti una cosa interessante è sapere se un fluido infiammabile o no che tipo di olio solitamente viene utilizzato e la classe sono anche fc hfo e cose varie ovviamente la formula chimica e nelle impostazioni possiamo andare a scegliere come vedete quel valore a r4 r5 che fa vi mostrerà una variazione del del gvp ok chiaramente gradificare se fare night e poi possiamo definire dei fluidi preferiti ok quelli che andremo incontrare prima durante la selezione per evitare di dover scorrere tutta la miriade di fluidi per trovare quello per noi più utile ok quindi oggi abbiamo visto in questa mezz'oretta veramente veramente una carrellata molto veloce dei principali app della dampos che vi invito a scaricare tutte partendo dal rega guida e retrofit che è disponibile anche in italiano al q selector che è un programma che non è disponibile per tablet ma ha bisogno di pc e non è ancora non è detto che lo sarà disponibile per app nel breve quindi mi invito ad usarlo su computer perché l'unica possibilità che avete e poi ci sono che altre api invece che abbiamo visto che sono le fingere andrà e dell'oggi vp tu e il superlitto una vi invito in caso di dubbi a scrivere email o direttamente al supporto tecnico della danfoss o se avete un rivenditore di riferimento al vostro rivenditore che passerà al supporto tecnico che non è rappresentato solo da chi sta parlando ma anche da altri colleghi che sarà a vostra disposizione per aiutarvi a capire come funzionano la la forza delle app che ha sviluppato danfoss sta proprio nel rendere autonomo l'installatore o il progettista per poter compiere in autonomia la maggior parte delle selezioni quando avete bisogno o avrete bisogno di supporto per queste app è importante soprattutto in cui se detto che ci inviate il file che avete realizzato per potersi confrontare insieme danfoss organizza regularmente presso il rivenditore dei training di cui se detto perché è una mattinata di training 34 ore training che ovviamente workshop che dove ognuno porta il suo computer e si prova a fare delle selezioni partendo dalle vostre richieste sono assolutamente i momenti più proficui per poter imparare ad utilizzare correttamente il programma ok io vi ringrazio per l'attenzione ho terminato questa presentazione questa misureta insieme se avete delle domande potete scrivere mi verranno recapitate e vi verrà risposta in maniera scritta e nel più breve tempo possibile vi ringrazio e auguro a tutti una buona giornata e un buon lavoro webinare is end